Utilizza la tua tecnica personale per portarti in uno stato rilassato di coscienza. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Utilizza la mia intenzione di utilizzare questa meditazione come strumento per accelerare il processo di portare pace al pianeta Terra e ai suoi abitanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'interno del nostro sistema solare e poi attraverso il tuo corpo e va verso il centro della terra. Visualizza un'altra colonna di luce che si alza dal centro della terra, poi passa attraverso il tuo corpo e in alto nel cielo verso tutti gli esseri di luce del nostro sistema solare e la nostra galassia. Ora stai sedendo nelle due colonne di luce, con la luce che scorre simultaneamente verso l'alto e verso il basso. Mantieni attive queste due colonne per qualche minuto. Grazie a tutti. 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 che si espande attraverso tutto il Medio Oriente e lo purifica. Grazie a tutti. Spandila ancora di più finché abbraccia l'intero pianeta purificando il suo campo energetico sui piani plasmatico, eterico e astrale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora visualizza un'energia femminile divina di guarigione rosa chiaro che guarisce tutte le persone in Siria e porta pace nel paese. Grazie a tutti. Visualizza questa luce rosa chiaro che protegge la Siria. Visualizza questa energia divina femminile. che guarisce le menti e i cuore di tutte le persone del mondo coinvolte nel conflitto in Siria. Poi visualizza questa energia divina. Poi visualizza questa energia divina femminile che si espande attraverso tutto il Medio Oriente e guarisce tutte le persone che sono lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutti gli esseri viventi sul pianeta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.